Secondo alcuni siti web, tra cui wikipedia.org, Stefano De Martino cresce a Torre Annunziata, muove i primi passi nel settore della danza all'età di 10 anni. Nel 2007 riesce ad aggiudicarsi una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center, grazie a cui ha l'opportunità di entrare in contatto con la danza moderna e contemporanea. Poi è stata la volta dell'edizione che ha reso popolare la talentuosa Drusdilla Foer, ascrivendola ufficialmente tra le stelle dell'intrattenimento di qualità più amate dal grande pubblico. Successivamente è stata la volta dell'ingresso delle star del web sul palco del Teatro Ariston, come Chiara Ferragni, che ha fatto molto parlare di sé, per via della breve ma spettacolare diatriba familiare che si è consumata proprio di fronte ad Amadeus. Il festival dello scorso anno ha attirato molto l'attenzione mediatica anche per la discussa esibizione di Blanco. Insomma, tra polemiche e share alle stelle, Amadeus è riuscito a traghettare per ben 5 anni di fila lungo gli eventi dello show Rai per eccellenza tutti gli italiani, che da 70 anni guardano al festival di Sanremo come un appuntamento imperdibile. Dei suoi 5 anni a Sanremo i primi due lo hanno visto in coppia, con Fiorello. Ma il prossimo sarà l'ultimo Sanremo che porterà il volto di Amadeus, e da tempo si cerca di individuare il suo e il suo erede. Si era fatto il nome di Carlo Conti, ma adesso è spuntata un'indiscrezione tutta nuova. A quanto pare sarà Stefano De Martino, il conduttore del prossimo festival di Sanremo. Come si legge sulle pagine di Nuovo TV Infatti, l'ex di Belen Rodriguez sul tema ha risposto. Per fare Sanremo bisognerebbe avere qualche capello bianco, ma se me lo chiedessero direi di sì, magari rischiando di fare anche il passo più lungo della gamba. Dunque con umiltà e saggezza Stefano De Martino si è detto molto propenso alla conduzione. Chissà che cosa accadrà nella prossima edizione della gara canora più attesa dell'anno.